Sì, un cane bianco e marrone, che ne so. Uno sciazzo, uno sciazzo, su. Grazie con i cani e quelli a***** piccoletti. Vuoi essere che sia lì? Accelò col cane, manino, non con te. Se descrivi il mio cane, descrivielo bene. Ok? Aspetta che te lo descrivo meglio, fammelo vedere. Fammelo vedere. Scegli bene le parole, te lo dico. Sì, vabbè. E' alto 36,4 cm, che secondo me è un rompico. No, ma è un modo di dire. Un modo di dire. Per dire che abbaia non basta. Non abbaia, lei non abbaia. No, ma in generale. Cagnolina, piccolata, marrone e bianca. Questo devi dire, punto. Filippo, con i suoi angeli custodi, esce guardate nel parcheggio a cercare il cane. Vedi qua, vedi qua, vedi qua se c'è qua. Ma qualcosa attira l'attenzione del vigilante. Qui c'è un indizio. Che c'è? Ah, vedi, 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 c'è una cacca qua. E mi sa che l'ho scherzato un indizio. E' fresca? Sì, sì, è fresca. Come ancora? E' fresca. Non è lei. Ebbè è fresca. E' lei. Non fa una cacca, lei. Non va a fare in giro la palla. Non fa una cacca? Non fa una cacca?